Le cellule staminali sono una valida soluzione allo stortrosi, ma dove le troviamo queste cellule? Le cellule staminali sono delle cellule fondamentali per lo sviluppo dell'embrione, del feto e continuano a servire moltissimo anche nell'individuo adulto, sono la riserva aurea di cellule per rimpiazzare le cellule che muoiono man mano durante la vita dell'individuo. Le cellule staminali che si usano in ortopedia si chiamano mesenchimali perché derivano da un tessuto embrionario che si chiama mesenchima, da cui deriva osso, cartilagine, muscolo, tendine, eccetera, tutti i tessuti che sono poi di interesse ortopedico, per cui le cellule mesenchimali stanno in tutti questi tessuti, ma sono molto più ricche a livello del sangue midollare, ma soprattutto nel tessuto adiposo. Che tipo di studi sono stati condotti per valutarne l'efficacia? Diciamo che siamo ormai ad un punto in cui il trattamento con queste cellule dell'artrosi è buona pratica clinica, quindi non vorrei parlare di esperimenti pensando che si possa pensare che è una terapia sperimentale. Sicuramente ci sono ancora delle cose oscure, ma anche nell'ambito dell'oncologia ci sono tantissime cose oscure. Continuiamo a studiare un argomento che abbiamo già approfondito con un sacco di studi. Io ne ho fatti un po', tantissima gente nel mondo ne ha fatti tantissimi e da questi studi appare un'efficacia e soprattutto una mancanza di effetti collaterali e di problemi legati a questi trattamenti, per cui questi trattamenti sono dei trattamenti sicuri ed efficaci. Quindi il paziente di oggi non è una cavia sostanzialmente? Assolutamente no. Quali sono i vantaggi rispetto alla protesi? Questo trattamento è un trattamento semplice, è un trattamento che si fa in dei hospital, è un trattamento che non prevede una particolare aggressività chirurgica ed è un trattamento che non chiude nessuna porta a trattamenti successivi, per cui è molto facile trattare anche delle situazioni di artrosi precoce che invece la protesica non prevede, perché la protesi è una strada di non ritorno e soprattutto è una strada di grandissimo successo, di successo immediato, ma che ha quella piccola parte, quell'intervallo grigio nel quale ci sono le complicanze che rendono poi gli esiti di questo intervento molto, molto, molto gravi nel caso di complicanze legate alla protesi. Infine, la protesi fa cambiare un po' il tipo di vita, la qualità della vita del paziente. Un paziente con una protesi di ginocchio non va a sciare o se va a sciare, va a sciare con un rischio enorme, invece il paziente che è trattato con le staminali ha il suo ginocchio esattamente come prima ed ha forse qualche miglioramento dal punto di vista, diciamo, sia sintomatico che funzionale che gli permette di avere una vita migliore. In che cosa consiste l'intervento? Quanto dura? Ma l'intervento più o meno, l'intervento di aspirazione e poi di infusione delle cellule dura un'oretta, forse un pochino di meno. In genere si fa un prelievo a livello del grasso peri ombelicali, in alcuni casi si usano invece delle zone, diciamo, di grasso della coscia e ovviamente bilateralmente si fa un prelievo di due o trecento cc e questo prelievo viene poi trattato all'interno della sala operatoria in un sistema completamente chiuso e con una manipolazione che si chiama manipolazione minima, cioè non si aggiunge nulla a quello che c'è di naturale del paziente, pertanto non si rischiano delle complicanze legate a fattori esterni e questo trattamento poi permette di ottenere un concentrato di cellule staminali e altre cellule che si trovano all'interno del tessuto adiposo che viene poi iniettato nell'articolazione. E in che cosa consiste l'artroscopia? Spesso viene abbinata anche all'utilizzo delle staminali. L'artroscopia ci aiuta a migliorare la qualità generale del ginocchio, se il ginocchio, o l'anca anche nel caso, però più spesso il ginocchio, ha un problema di stabilità oltre che un problema di artrosi, possiamo in un intervento unico lavorare sui problemi di stabilità e sull'artrosi allo stesso tempo. Se c'è una lesione focale meniscale, cartilagine, si può trattare a livello focale e aggiungere poi le staminali per il trattamento, diciamo, più diffuso della malattia artrosica. E che tipo di anestesia si utilizza? In genere si fa una rachianestesia perché questa rachianestesia, che è una puntura, diciamo, a livello lombare di anestetico, permette di addormentare sia la parte addominale in cui si fa il prelievo, sia gli arti inferiori in cui poi si fa la preparazione dell'articolazione e poi l'infusione. Ecco, ma il paziente quindi rimane cosciente? Il paziente può rimanere cosciente se sceglie e può anche farsi una dormitina sotto controllo dell'anestesista, dipende dal paziente. Lei sconsiglia di utilizzare l'anestesia locale, per quale motivo? Noi dobbiamo mettere le cellule staminali nelle condizioni migliori per aderire in questo nuovo ambiente e di dare il loro contributo all'interno dell'articolazione. Quindi, se noi trattiamo la zona di aspirazione con l'anestetico locale, le cellule staminali sono esposte all'anestetico locale. Alle cellule staminali non piace l'anestetico locale, soffrono e soffrono anche se vanno in un'articolazione infiammata. Per cui noi non usiamo l'anestetico locale e laviamo molto bene l'articolazione con della soluzione fisiologica prima di iniettare le cellule. Quanto dura l'addigenza in ospedale e poi dopo a casa? L'addigenza in ospedale dura alcune ore fino a quando non è finita l'anestesia locale. Se non si fanno ulteriori trattamenti associati, in genere è un day hospital. Poi il paziente va a casa e, come dicevo prima, deve mantenere la sua articolazione per un periodo relativamente lungo, 4-5 giorni, senza che si infiammi, perché se avviene l'infiammazione le cellule staminali non sono in grado di aderire bene all'interno della cavità articolare e quindi non sono in grado poi di dare il loro contributo a lungo termine. Quindi è bene utilizzare comunque le stampelle? Per i primi 5-6 giorni sì, sarebbe ideale. Ci possono essere degli effetti collaterali? Gli effetti collaterali sono legati, nella mia esperienza, in generale a due fenomeni. Il primo è un po' di ematoma nella zona di prelievo che si risolve nell'arco dei primi 10 giorni. Delle chimosi a livello addominale certamente ci possono essere. Si risolvono con un termoforo e con una panciera addominale che mantenga ben adesa l'acute agli strati profondi. Per quanto riguarda invece la zona di infusione, il paziente può sentire questo gonfiore dell'articolazione a cui è abbastanza abituato perché il paziente che ha l'artrosi ha spesso il ginocchio gonfio. Quindi si trova un po' in difficoltà dicendo, ah sì, io ho ancora il ginocchio gonfio anche se sono stato trattato. Però questo gonfiore non è un gonfiore infiammatorio, è un gonfiore legato all'infusione, proprio al volume stesso delle cellule staminali che sono state infuse ed è totalmente asintomatico, dà solo questa sensazione di gonfiore ma non fa male e si risolve nell'arco di 10-15-20 giorni al massimo. Ma dopo quanto tempo si vedono i benefici? I benefici dal punto di vista del sintomo cominciano presto e l'apice del beneficio, l'inizio proprio di questo plateau di benessere articolare si ha verso i tre mesi. È ovvio che se un'articolazione viene riattivata, rivitalizzata, poi anche dal punto di vista funzionale, dal punto di vista biomeccanico l'articolazione migliora. Ma perché si abbiano i benefici proprio dal punto di vista della qualità della vita, quindi dell'uso dell'articolazione, bisogna aspettare qualche mese in più. Nei nostri studi abbiamo visto che il paziente comincia ad avere delle performance veramente migliori rispetto al passato dopo sei mesi. Però quindi il dolore sperisce in un arco di tempo abbastanza breve? Entro i tre mesi si riduce costantemente e generalmente nello scenario minimo si riduce nei responder, cioè nei pazienti che rispondono al trattamento si riduce il 30%, in genere si riduce molto di più. È necessario fare della fisioterapia? Se un'articolazione è stata poco usata, se una muscolatura è stata poco attivata e quindi il paziente ha bisogno di riprendere, sicuramente la ripresa funzionale è più facile con il fisioterapista. Il fisioterapista ci aiuta ad avere una qualità articolare migliore, una stabilità, una forza muscolare e ci facilita la ripresa. Certamente non è indispensabile ma è molto utile. Grazie.